buongiorno a tutti anzi buonanotte vista l'ora però siccome come cantava Vasco le canzoni sono come i fiori nascono da sole sono come i sogni a noi non resta che scriverle in fretta sennò svaniscono e non ritornano più mi è venuta in mente una cosa intanto magliettina come sempre disportando i dintorni perché ci vuole la sponsorizzazione sempre anche se non una sponsorizzazione per modo di dire visto che i miei video se li vedono in 100 già sono contento che fa anche rima comunque volevo parlarvi un attimo perché l'altra sera due sere fa su tele lombardia stavano parlando del milan del fatto che maldini ha accettato il fatto di dire diventare direttore tecnico e non quello sport non il ds direttore generale o direttore tecnico della del milan del fatto che gazilis abbia già detto che punteranno sui giovani e quant'altro cercando di valorizzarli per poi rivenderli e quant'altro eccetera 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 e quindi addirittura quando a quanto pare arriverà giampaolo ad allenare il milan c'erano appunto gli ospiti che dicevano che giampaolo era già una figura di spessore per il milan in questo momento e quindi capite che magari uno rimane basito poi logicamente ci sono i milanisti che non sono contenti e quindi cominciano a dire non andiamo più allo stadio e questo e quell'altro e non ti fa più il milan adesso non lo so se lo faranno non lo faranno comunque non sono contenti avendo vissuto un po di anni quindi anche gli anni del milan in cui finiva in serie b a gratis e pagando e a gratis e anche gli anni in cui il milan era in serie b e san siro era era pieno era pieno ma questo non vale solo per il milan vale per tutti i tifosi per tanti tifosi che se la squadra viene costruita in una determinata maniera con fior di campioni allora tutti allo stadio se la squadra è costruita purtroppo per ambire a premi di consolazione come si suol dire quindi cercare di arrivare quarti e male che vada a contentarsi dell'europa liga ad andare bene allora non la si segue più non mi interessa più c'è ti fare una squadra e ti fai scelto quella squadra io facevo l'esempio di un mio conoscente che tifava il legnano un paio di volte sono andato anche a vederlo il legnano diceva non c'era la parte magari c'era fermo il campionato di serie a mi diceva vieni a vedere il legnano andiamo a vedere il legnano giocava in in c2 se non sbaglio in quegli anni eravamo intorno agli anni 90 tanto milano legnano non è che ci metti un secolo uno che tifa il legnano ma uno anche che tifa il mantova come ricordo in un film di di gerry cala in cui e faceva vera mantovano andavano a vedere il mantova ed erano contenti perché magari venivano promossi dalla c2 alla c1 mantova cosa il legnano che cosa può vincere nulla può magari passare da una categoria all'altra ma al massimo può ambire esagerando alla serie b però c'è gente che lo segue ci sono migliaia di persone che lo seguono due tre mila cinque mila diecimila magari questo vale per la maggior parte delle squadre ci sono squadre che lo scudetto non sapranno mai neanche come fatto però vengono seguiti e lo stesso io sentire non lo seguo più perché il milan nella sua storia è rimasto 44 anni senza vincere uno scudetto 44 anni se non senza vincere la champions che erano 44 anni che l'inter non vinceva la champions erano 44 anni che il milan non vinceva uno scudetto eppure i milanisti l'hanno seguito sempre quando giocavano con la cavese anzi sì con la cavese in casa nel campionato 82 83 che persero 2 a 1 lo stadio era gremito c'erano 50 mila persone perché nell'82 83 non c'era ancora il terzo nello c'era solo il secondo però san siro riusciva a fare lo stesso su 70 80 mila spettatori anche quando perché non c'erano i posti numerati quindi ti sedevi dove riuscivi dove andare allo stadio per dire la partita iniziava alle due e mezza tu già mezzogiorno dovevi essere allo stadio e facevi fatica a trovare un posticino sui gradoni dello stadio mica c'erano le poltroncine come adesso c'erano dei gradoni separati da gli stessi che abbiamo adesso solo che adesso ci hanno aggiunto la poltroncina col numerino sotto eccetera quindi a sentire queste cose rimango rimango basito perché dov'è il tifo solo si tifa solo a convenienza il tifo a convenienza lo fanno i bambini come il filippo che metteva fuori vincete perché sennò mi prendono in giro ma un tifoso vero che segue la squadra eccetera non si fa problemi se la suddetta squadra ha comprato il campione o non l'ha comprato tifoso la tifa tifa i giocatori che ci sono che siano campioni che siano i ragazzini della primavera che sia il ragazzino di belle speranze che ti arriva dalla squadra sconosciuta per fare adesso stavo pensando se il milan non fa mercato si tiene i giocatori che a lì rientra il buonaventura c'è un piate in più che inizia il campionato sin dall'inizio c'è un cutrone che scalpita dovrebbe arrivare giampaolo che teoricamente gioca con due punte quindi cutrone piate non è che è una squadra scarsa certo non può ambire sicuramente allo scudetto però i primi sette posti di poter raggiungere tranquillamente quindi può arrivare sia a quarta che quinta che sesta che sette poi va bene naturalmente ci sono quelli che flottano contro i mulini a vento perché non è giusto che una squadra non possa spendere eccetera è una regola l'abbiamo dovuta sopportare per tre anni noi la sopporterete per tre anni voi invece non riescono ad accettare il fatto che loro adesso per tre anni devono sopportare il fatto che se guadagnano tot devono spendere tot e non può il signor Gazzilis arrivare lì con 500 milioni e dire vi do 500 milioni e risolviamo il problema perché quello succedeva vent'anni fa con i Berlusconi con i Moratti che arrivavano a fine anno cosa siamo in rosso di 100 miliardi 120 miliardi e risolviamo non succede più così hanno deciso così da anni hanno fatto la regoletta che la squadra che cambia proprietario può sforare ma non di 200 milioni forse puoi arrivare al massimo a 100 ma poi devi rientrare e se non rientri poi ci sono tutti i problemi annessi e connessi e per rientrare non può essere ancora il ammetterci ulteriori soldi no devi usare quelli che hai è una regola dal tondo ogni regola è sbagliata è sbagliata la regola che se tu c'hai l'emiro che tira fuori i miliardi perché non c'è è sbagliata anche questa di regola perché logicamente questa regola cosa succede un Real Madrid ha la possibilità di avere x posteriorizzazioni quasi infinite perché il Real Madrid il Manchester United uguale il Barcellona uguale e naturalmente l'Atalanta no perché chi è che se la fila l'Atalanta lo stesso Milan adesso nonostante Gazzidis non se lo fila più nessuno perché non è più come una volta non è più il Milan di una volta e nonostante abbia le sette Champions è il passato adesso guardano il Milan dicono è una squadra di scappati di casa che sponsorizzazione facciamo su una squadra perdente viceversa su un Insta cercando di far diventare accattivante la squadra nera azzurra è riuscita a trovare molte sponsorizzazioni che aumentano del 33% loro avevano detto cercheremo di aumentare del 33% il fatturato annuo e ci stanno riuscendo ma ci sono voluti tre anni lo stesso dovrà fare il Milan con calma nei prossimi tre anni poi tornerà a essere si spera perché comunque Milano ha bisogno di tutte e due le squadre lo continuo a dire a me il Milan piace o sedicesimo anzi o diciottesimo o nelle prime quattro che arrivi quinto che arrivi sesto che arrivi settimo va bene giocherà l'Europa League magari poi lo raggiungiamo dopo se non si fanno eliminare anche loro nel girone come abbiamo fatto noi in Champions che siamo retrocessi in Europa League però è importante che anche il Milan rappresenti Milano in Europa o se no che vado in Serie B ma ibrido che non mi dice niente non c'è gusto battere un Milan di scappati di casa 3 a 2 a me non dà nessuna soddisfazione preferisco vincere e perdere come succedeva contro il Milan di Sacchi che anche Luca dello Zoccolo Duro lo diceva l'Inter magari finiva negli anni del Milan di Sacchi di Capello eccetera dietro di X punti ma i derby li vinceva magari uno lo perdeva ma uno lo vinceva perché entravano in campo con la cazzimma di vincere non erano una squadra comunque scarsa a parte nell'87-88 che abbiamo fatto pena lì sì veramente abbiamo fatto qua quel 2-0 lo continuerò a dire ma ha fatto molto più male dello 0-6 famoso che ancora adesso ci rinfacciano perché quello 0-6 fu un Milan che giocò sul contropiede e sulle debolezze difensive dell'Inter con Serginio e Cafu sulle fasce che andavano via come delle nippe il Milan fece 7-8 azioni 6 gol l'Inter tenne palla per il 65% della partita ci sono i tabellini senza combinare niente infrangendosi sulla difesa del Milan che era libidine e nonostante avessimo vieri eccetera non riuscimmo a batterli e prendemmo 6 pappine però non è che ci hanno messo nella nostra metà campo e ci hanno preso a pallate hanno sfruttato il contropiede invece il Milan di Sacchi quello che ci batte 2-0 nell'ottantampionato 87-88 ci mise lì per 90 minuti Zenga fu l'orsetto che volava a destra e sinistra a salvare il risultato e furono fortunati che ci fece prendere solo un lì potevamo perdere 6-0 ma quella partita famosa 6-0 conta il risultato ma i fatti dicono altro poi se tu non segni c'è poco da fare anche adesso mi rinfacciano le Empoli oggi ho visto un mio amico milanista che mi ha detto avete più culo che anima ciccio 44 tiri a 16 per l'Inter mi sembra che il culo c'entri relativamente perché l'Empoli l'abbiamo preso a pallate cioè alla fine della partita è apparso sul tabellone tiri Inter 44 tiri Empoli 16 quasi il triplo dove è il culo? il culo è fai due tiri in porta segni tre gol quello è culo? ma 44 tiri a 16 mi sa che comunque niente fatemi sapere voi cosa ne pensate se è giusto o sbagliato che un tifoso in base a come viene strutturata la squadra la segua o non la segua o se un tifoso deve fregarsene altamente e tifare la sua squadra a prescindere e poi tutto quello che viene è di guadagnato perché vedendo la situazione mi sembra che ci sia questo disamore dei tifosi rossoneri verso il Milan questo non ci sta bene questo non ci sta bene quello non ci sta bene quell'altro che mi sembra l'opposto cioè l'Inter i tifosi dell'Inter stanno diventando i tifosi del Milan e i tifosi del Milan stanno diventando tifosi dell'Inter nel senso si è sempre detto che i milanisti erano i Kaschavit mentre l'Inter era la borghesia i Bausha quelli che facevano un po' in pizzetta al naso e quindi sempre quell'aria sì abbiamo vinto però scudettino vabbè mentre invece il milanista era più sanguigno più più attaccato alla squadra a prescindere un po' come Juventus e Torino ecco per intenderci con le dovute differenze perché Inter e Milan hanno una storia di vittorie il Torino ahimè ha vinto qualche scudettino grazie al grande Torino ma poi è tornato a cuccia come si suol dire viceversa Inter e Milan avevano i loro periodi buoni periodi negativi il Milan ha avuto il periodo 86 col Berlusca e infatti anche lì sembra quasi che il Milan si è nato nel 1986 non alla fine del XIX secolo ma nel 1986 quindi cento anni più o meno dopo quello che è successo prima non ci interessa e in quello che è successo prima ci sono comunque due Champions qualche una decina di campionati perché alla fine della Fiera alla Stella l'hanno vinta nel 79 nel 78-79 lo scudetto della Stella quindi noi in 90 anni hanno vinto 10 scudetti certo ci hanno messo dal primo del 1907 al successivo nel 1944 sono passati no 51-51 sono passati 44 anni però poi dopo hanno iniziato a vincermi ne hanno vinto nel 50-51 l'hanno vinto negli anni successivi hanno vinto per primi la Champions dopo che la Fiorentina fece una finale di Champions con Real Madrid poi ne abbiamo vinte due noi di fila poi l'hanno rivinta loro nel 69 quindi eravamo due a due con le Champions vinsero una Coppa delle Coppe se non sbaglio qualcosa l'hanno vinto dopo quindi si è Inter il loro l'hanno fatto poi hanno avuto il periodo negativo con le due B eccetera però i tifosi erano sempre attaccati alla squadra viceversa i discorsi che fanno loro adesso li facevamo tra virgolette perché comunque anche il tifoso dell'Inter i suoi 25-30 mila abbonati li faceva quando io andavo nell'82-83 ho iniziato ad andare allo stadio facevamo circa 25-30 mila abbonati che erano comunque tanta roba e infatti potevo permettermi con calma di fare la mia tesserina ai distinti adesso è impossibile addirittura adesso è impossibile andare a vedere l'Inter al primo anello o faccio la tessera ma credo che sarà tutto esaurito un'altra volta o se no devo andare al secondo rosso che non è che mi esalti più di tanto si vede meglio tra virgolette però al primo verde io ci ho fatto 27 anni ai distinti poi al primo verde ma stiamo sul Milan e sto vedendo questo disamoramento e non so rimango ero abituato a fare i complimenti ai milanisti proprio perché andavano allo stadio a vedere il Milan e riempivano lo stadio anche se era in serie B sia il primo anno 80-81 che 82-83 c'era sempre San Siro gremito e adesso vedere questo disamore perché avranno un periodo un attimino in cui si sa che non si vince devi lottare per arrivare in Europa ecco diciamo in Europa poi se riescono ad arrivare quarti o meno è un altro discorso ma devi lottare per l'Europa e basta per i piazzamenti e quindi vedi che tra virgolette perché poi c'è quello che invece è sanguigno è rimasto sanguigno allo stadio ci va a prescindere l'abbonamento lo fa a prescindere però sembra quasi questo obbligo anche per loro come per la Juve la Juve lo sappiamo ha l'obbligo che se non vincono vanno in depressione ma Inter e Milan non hanno mai avuto la depressione non vinco Dio non vinco mamma mia cosa succede tifavano la squadra e stop di più i milanisti di più i milanisti è sempre stato così l'Inter magari era un attimino snobbettino quindi se la squadra non vinceva andava un attimino tra virgolette un attimino in crisi ma non faceva il pianto greco non siamo la Juve che dopo i settimi posti erano lì oddio non vinciamo più cosa facciamo cosa succede d'altronde loro hanno quella famosa frase la vittoria non è l'importante non è partecipare ma vincere la vittoria non è importante ma è l'unica cosa che conta qualcosa di simile eccetera va bene lasciamo perdere quindi comunque niente io ho parlato anche troppo fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo tra virgolette disamore dei milanisti e questo dissapore del fatto che ahimè avranno tre anni di purgatorio da passare perché francamente non vedo più quell'attaccamento che avevano prima rispetto a oggi visto che comunque le cose le osservo le guardo e posso constatare quello che dico poi naturalmente ci sono i milanisti no Gigi non è vero noi siamo attaccatissimi al Milan non ce ne frega niente continueremo a tifarlo anche se lotteremo per la salvezza eccetera eccetera però da quello che vedo sui social e vedo anche in televisione mi sembra che non è che sono molto molto felici della situazione e quindi stanno piano piano allontanandosi tra virgolette in attesa di momenti migliori io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao